Ciao a tutti ragazzi siamo tornati da Wolf, in questo gioco avevamo detto che avevo portato la saga di Ace Combat e Assault Horizon Iniziamo con la missione principale, adesso vi spiego Ho già giocato questo gioco, l'ho avuto in passato Da qui deriva il mio nome Warwolf, vedendo la angosta della storia La prima missione si parla di un sogno che si diventerà, quindi la vera missione sarebbe questa Ora ve la faccio vedere e ve l'ho giusto, si chiama onda d'urto Colonnello, sei sveglio? Dobbiamo decollare Sì, arrivo Asciutero una da base, scodriggia Noman Ci avviciniamo all'obiettivo. Allerta, ragazzi. Inizio motosciutto. A 6-2. Shooter 2, conferma. Guai grossi, in arrivo. Pronti a tutto, ragazzi. Qualunque cosa si muove laggiù, facciamola al peggio. Schiacciamo i rimetti. Nomad 6-1, eliminate i nemici sulla strada. Nomad 6-2, pensate alla contraerea. Bene. Per la cronaca, siamo vincolati dalla risoluzione 21-56. Molti bersagli nella zona di fuoco libero sono validi. Fate felici la nata. Hai ricevuto, cazzo. Iniziamo l'attacco. Mitragliere, fuoco. Sopprimi in quella posizione. Shooter qui, Nomad 6-1. C'è un veicolo nemico sulla strada. Abbattetelo. R.P.G., R.P.G., colpiti i lanciatori prima che sparino. Bel lavoro. Liquida gli altri. Nel lavoro, mitragliere. Sistema gli altri. Sistema gli altri. Shooter 1, ci sono unità nemiche multiche sul posto. Continuano a ricevere roba dal loro dannato fornitore. E un pescino. Schiacciateli. Qui, Tagger 3. Coordinate confermate. Attacchiamo. Sì. Uno per noi. Vorrei sapere chi continua a rifornire quei bastardi. Nomad 6-1. Eliminate gli R.P.G. sui tetti. 6-2. Procedete sulla strada principale. Qui, Nomad 6-2. Stiamo subendo fuoco intenso da terra. Richiediamo supporto. Ricevuto, Nomad 6-2. Procediamo. Veicoli nemici in vista. Continua l'attacco. Non fermarti! 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 I veicoli nemici sono stati spazzati via. Stasera offriamo da bere noi. Nomad, attenti a quelle posizioni. Girate attorno ed evitate il fuoco. Vedo il bersaglio. Mi avvicino. Alla tua destra! R.P.G. Qui 6-2. Ci hanno colpito. Super 1. Direi! Precipitiamo! Sono in rotta. Nomad 6-2. Precipitato! R.P.G. 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 Beh, questa è stata la prima missione ragazzi. Nella prossima vi farò vedere la seconda. Da Wolf è tutto. Alla prossima.